segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te penso che il donbass se davvero fosse stato così filo russo e non solo russofono avrebbe accolto i soldati russi con i fiori e con gli abbracci con cui adesso a kerson sono stati accolti i soldati ucraini liberatori e penso per chiudere che noi abbiamo per esempio un esempio efficace in italia che è l'alto adige cioè un paese che ha una cultura mista benissimo probabilmente questa è la strada non certo pensare di togliere all'ucraina una parte come già è stato fatto per la crimea e con quell'invasione russa togliergli una parte d'ufficio a me sembra veramente una posizione non solo allora chiaro ma anche storica chiarissimo allora intanto vi do la notizia perché poi permette un attimo un attimo solo zeleschi poco fa è in visita a kerson liberata in questo momento come vedete no stiamo parlando di questo la cronaca ci 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 accompagna diciamo